Arriva l'ufficialità, sarà Giovanni Quarato, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Foggia, bocciata quindi la proposta di Francesco Bacchelli, sostenuto da Franco Cuttano, che la settimana scorsa aveva espresso la volontà di correre a sindaco. Certificata la lista di Quarato, che al momento conta 25 consiglieri comunali, espressione del mondo pentastellato e della società civile. All'appello mancano altri sette candidati, che andranno a completare l'elenco. Tra gli attivisti correrà il bocconiano Fabrizio Baia, già candidato alle parlamentarie, Nino D'Andrea, molto attivo nel mondo del volontariato, l'insegnante del Perugini Laura Maggi e Marco Papicchio. Dalla società civile il Movimento Sceglie Camerbattiante, come risposta Gianna Fratta, la direttrice d'orchestra, fondatrice di note a margine, è uno dei nomi di peso della lista. Dal mondo del commercio Francesco Paolo Sebastiano, Giuseppe Sposto, nel frattempo però un piccolo giallo riguarda il mondo pentastellato. La mia lista spiega il competitor di Quarato, Francesco Bacchelli, risulta ancora in fase di certificazione. Non ho ricevuto ancora comunicazioni, la mia proposta era nata per allargare la partecipazione ed in ogni caso però rimarremo nel Movimento 5 Stelle, conclude Bacchelli.